eccoci qua di nuovo giunti qua oggi facciamo una tipica ricetta di biscotti alla panna sarebbero questi sono le macine le macine sarebbero quasi uguali alle macine mulino bianco allora per questi biscotti ci vogliono solamente pochissimi ingredienti cominciando da 200 ml di panna da cucina sarebbe questa io ho usato questa da cucina quanto voi fate per esempio pasta con la panna quella panna non panna sarebbe panna non zuccherata panna da cucina poi 420 ml di farina 00 un uovo 50 ml di fecola 150 grammi di zucchero 40 ml di olio di semi una bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina adesso cominciamo a mettere dentro la panna piano piano mettiamo gli ingredienti ok poi aggiungiamo la fecola aggiungiamo l'olio di semi aggiungiamo lo zucchero 150 grammi aggiungiamo un uovo intero mi raccomando poi mettiamo la bustina di levito per dolci una bustina sarebbe di 15 grammi ok poi aggiungiamo per ultimo una bustina di vanillina adesso amalgamiamo tutto e facciamo diventare una pasta solida e così passiamo al piano di lavoro per amalgamare meglio a dopo ecco noi abbiamo amalgamato tutto adesso mettiamo la farina a poco alla volta avete visto come l'ho fatto diventare adesso mettiamo la farina un poco alla volta e mescoliamo mano a mano non tutte insieme a poco alla volta ok diventare facile ad amalgamare abbiamo trasferito il nostro composto nel piano di lavoro adesso se vi piace un pochino appiccicoso ci potete mettere un po di farina ok non va niente lavoratelo per 5 minuti con le mani fino a che non diventa bello solido e poi colmato un panetto ecco qua la farina la lasciate sotto ok e cominciata e poi fate una cosa appena che può cominciare a stendere no formate due panette fate un panetto così no e lo dividete in due parti uguali ok e lo mettere un altro lo mettete di lato lavorato il primo panetto lavorate e poi lo stendete lo stendete con il battarello ok accendete nel frattempo il forno deve essere il forno pre riscaldato statico per 15 minuti i biscotti a meno che dovete vedere come l'avete voi di che tipo di forno avete se l'avete veloce forte allora non fatelo troppo fino alla pasta ok un diametro di un centimetro avete visto come ho fatto io si vede così tipo quando tipo una pizza singolo sai sapete allora prima uniti vedi una forma tonta di 7 cm e un beccuccio quello per fare torte per fare dei buchetti in mezzo adesso vi faccio vedere allora facciamo cominciamo a fare le forme vediamo quante ne vengono piano 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 semplici semplici ma non fa niente allora adesso io fatevi con le cucciole tu gli fate un cerchio ecco qui abbiamo finito ecco qui ho fatto immagine avete visto come sono venuti queste le mettiamo già nella teglia però metteteci un po' più di farina sotto così così che scivolano meglio ok stavolta abbiamo questo però aiutatemi con questo lo vedo a casa e nello stesso e lo sistemiamo con la stessa pasta riformiamo di nuovo panetto e lo stendiamo col sicuro non allargatela troppo in questo caso se ne sono venuti 4 con la farina viene più migliore metteteci un po' di farina in più sotto così che non scivola non scivola niente ok avete visto spessore e forma adesso adesso già mettiamo in forno mettiamo in forno a 170 gradi per 15 minuti ok avete visto adesso lo predispose qua dentro qua sopra a fra poco ecco qui le nostre macine mulino bianco allora questo è il nostro risultato avete visto? sono belli morbidi che me ne pare? cotti perfetti ve l'ho detto spero che avete visto la ricetta avete capito come si fanno e spero che su questa ricetta mettete un bel like e condividete come avete visto queste sono le mie macine macine mulino bianco se vi è piaciuta la ricetta mi raccomando di nuovo ve lo dico ve lo ripeto mettete like e condividete provate questa ricetta veramente perfetta sono uguale uguali alle macine originali avete visto? ok e adesso vi saluto alla prossima ricetta ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti